The Bangles con Manic Monday, il Cristal History delle 8 qui su Cristian Radio a Good Morning Milano. Venerdì 15 marzo, anche se era Manic Monday, in realtà oggi è Thanks God, it's Friday. Ma, ve l'ho detto prima della pausa, oggi parleremo di stadio, ma per una volta non parliamo di San Siro, o meglio, non direttamente, anche se la storia che andiamo a raccontare ovviamente è legata al futuro di San Siro. Stiamo parlando del stadio del possibile, fantomatico, spero non possibile per il nostro ospite. Stadio di San Donato del Milan, buongiorno a Fabio Songa. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora Fabio, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Tu fai parte dell'Associazione Borgo di Chiaravalle, ma l'Associazione Borgo di Chiaravalle è una delle più di 20 associazioni che fanno parte, diciamo, di questo comitato che sta dicendo no a questo stadio. E lo sta dicendo, nonostante questo stadio in teoria, San Donato, dice ma cosa volete voi di Chiaravalle? A San Donato? Perché Chiaravalle sul piede di guerra? Ma difatti, guarda, noi adesso stiamo usando sempre più l'espressione no allo stadio a Chiaravalle barra San Donato. Io a luglio ho avvicinato come rappresentante dell'Associazione Borgo di Chiaravalle, che da molti anni si batte contro il degrado e per la valorizzazione di Chiaravalle, ho avvicinato i membri del nascente comitato no stadio di San Donato e loro mi hanno detto, sì, guarda, per noi è un disastro lo stadio, ma per voi è una tragedia. Ah, bene. È così. Mal comune, mezzo gaudio, ma in questo momento nessuno... Ma Anna Franca ha detto che mal comune non è mezzo gaudio. Eh, infatti, nessuno gaudio, come dire, nessuno gaudio qui, in un certo senso. No, perché infatti qui la sofferenza vostra è lampante, perché questo progetto andrebbe veramente a impattare tantissimo sulla vostra roba. Sì, sì, guarda, proprio venendo qua in metropolitana stamattina, tra l'altro vengo da Chiaravalle e sono uscito da metropolitana guardandomi San Siro, quindi c'è quasi qualcosa di simbolico. Un fior rouge. Esatto. Ho letto su Milan News 24 che il Milan comprerà, dico la frase esatta perché fa un po' impressione, a breve l'acquisto di nuove terre, stranissima anche espressione, terre, tradotto vedendo i disegni, si vogliono comprare altri pezzi del Parco Sud, e indovinate perché cosa, per fare migliaia di posteggi. Eh sì, perché poi c'è quel tema lì, ok fare lo stadio, ok fare le facilities che farei intorno, ma in più poi dove le mettiamo le macchine, tutti quelli che andranno lì, visto che comunque non è poi una zona così ben servita quel punto, perché se uno dice, ah, San Donato, c'è la metro, sì, ma non è che lo fanno sulla metropolitana allo stadio. No, 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 no. Lo fanno praticamente appunto sull'abbazie di Chiaravalle, più o meno. Verso l'abbazie di Chiaravalle, sì, difatti noi abbiamo, se mi permetti, un'importante novità dell'ultimo mese che è uscito un manifesto a firma della comunità monastica di Chiaravalle, della comunità parrocchiale di Chiaravalle e del centro Nocetum, che è un importantissimo centro milanese e lombardo, contro lo stadio. I monaci si sono espressi in maniera durissima, parlano dello stadio come una violenza al territorio. Non è male, no? Ma mia mamma mi diceva sempre, fai perdere la pazienza anche ai santi. Ecco, il Milan è riuscito a far rarabbiare i monaci, cioè, devo dirvi complimenti, eh? Sì, 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 veramente. Noi abbiamo incontrato, quelle poche volte che abbiamo potuto farlo, perché dopo spiegherò se qualcuno interessa, c'è un deficit di democrazia in tutta questa storia. Quando ho avuto modo di parlare con l'assessore di San Donato, io gli ho detto proprio questo, siete circondati, perché avete contro di voi i monaci, avete contro di voi Nocetum, avete contro di voi la parrocchia di Chiaravalle, la parrocchia di Piazza Rosa, avete contro di voi tutte, tutte, tutte le associazioni territoriali e ambientaliste. Cosa volete? Questo assessore è stato eletto con un programma ambientalista contro il consumo di suolo. Allora io gli ho detto una cosa semplice, che vorrei proprio arrivasse anche al sindaco di San Donato. Avete promesso delle cose nella campagna elettorale, state lavorando per fare il contrario, dimettetevi, e tornate alle elezioni dicendo eleggeteci per fare lo stadio. Adesso sono stati eletti per non consumare suolo. Quindi quello che stanno facendo è incoerente ed è mancanza totale di rispetto per i cittadini. Questo è un po' il tema che c'è, perché su tutta questa storia, effettivamente l'abbiamo vista anche qui, adesso torniamo dalla parte di San Siro, insomma c'è stata la consultazione popolare, però poi il referendum non è stato voluto fare. Voi avete anzi proposto, c'è un'idea di fare un referendum, giusto? No, no, è già stato depositato a San Donato. Ovviamente io sono un cittadino di Milano, quindi non potrò votare eventualmente quel referendum. Però il comitato di San Donato, sono andato anch'io alla presentazione, alla conferenza stampa, ha presentato un referendum, che ovviamente non può che essere consuntivo, che chiede proprio questo. volete voi cittadini uno stadio sul territorio di San Donato. Ma voglio aggiungere un'altra cosa, i tecnici del comune di San Donato hanno avanzato una tale quantità di criticità, che sono assolutamente irrisolvibili. Per cui noi diciamo questo, ma fermatevi in tempo, anche perché i cittadini di San Donato si stanno lamentando sempre più, perché l'amministrazione si sta occupando solo di questo, e la città va a rotoli. Questa è una vergogna. Prima di rinominato, oltretutto siamo nel Parco Avicolo Sud Milano. Non è una zona qualsiasi, mi viene da dire, senza nulla togliere le zone qualsiasi. Il Parco Sud Milano è nato per una esigenza fondamentale, e anche l'altro giorno l'Europa ci ha richiamato su questo. Il consumo di suolo, l'inquinamento, questa è una delle zone più inquinate d'Europa. Ma insomma, vogliamo costruire uno stadio, distruggere ettari e ettari di terreno permeabile, oltretutto, voglio dire una cosa banale, sopra una falda. A pochissimi metri di profondità c'è una falda. Io, che vivo a 70 metri da dove dovrebbero fare i parcheggi, le pertinenze dello stadio, vivo in una casa in cui sono aperte continuamente le pompe per scaricare l'acqua, perché se no ci entra nei garage, nelle cantine. Figuriamoci con un intervento di quel tipo. Sì, perché è cemento. Perché è cemento, è cemento, cemento, cemento. L'abbiamo detto stante volte, l'abbiamo detto, quando parliamo di Seveso, quando parliamo di Lambo, quando parliamo del perché l'acqua non va dove dovrebbe andare, va dove trova terra. E se c'è cemento, non va lì, va dall'altra parte. Quindi, insomma, questo è quanto. Ma, allora, adesso ci fremo un attimino, andiamo con un po' di musica, poi torniamo ancora qui a parlare, perché i temi sono tanti. È interessante anche il volantino in cui siete usciti, che dice, no allo stadio a Chiaravalle, sì alle Cicogne. Infatti, dopo ne parliamo molto volentieri. Perché, infatti, bisogna far capire anche bene perché stiamo parlando di Chiaravalle, perché quel posto, quel borgo, quel luogo è così importante e va salvaguardato. Non solo dallo stadio, ma in realtà non va salvaguardato in generale. In questo caso, però, appunto, di più, valorizzato. Valorizzato, ecco, grazie, grazie Fabio, appunto. Allora, andiamo con un po' di musica. È Dante, che nella sua canzone, insieme a Nina Zilli, racconta di un vasco a San Siro. Dandì, come vasco a San Siro, insieme a Nina Zilli, e invece potremmo dire, se vasco va a San Siro, le Cicogne vanno a Chiaravalle. Perché così? Questo interessante volantino del no allo stadio ha un twist che non ti aspetteresti mai. Perché dice no allo stadio a Chiaravalle, sì alle Cicogne. Perché? Ma guarda, perché c'è un progetto per riportare le Cicogne a Chiaravalle. Quindi bisogna migliorare il territorio nel senso della naturalizzazione del territorio. Vi ci ritornare perché storicamente... Perché storicamente pensa che il Municipio 5 ha come simbolo la Cicogne. L'abbazia di Chiaravalle ha come simbolo la Cicogne. Nel nostro piccolo, la nostra associazione, ha come simbolo la Cicogne. Voglio dire una cosa però, che per me è importante. Non c'è solo lo slogan, che è molto bello, no stadio a Chiaravalle, sia le Cicogne, ma c'è anche un bellissimo disegno che ha fatto un cittadino di Corvetto che fa parte dell'associazione Amici della Ciribiciaccola e ce l'ha regalato. Poi abbiamo fatto un filmato che gira moltissimo di un minuto, che ha fatto un filmmaker di Chiaravalle che, pensate un po', ci tiene a non dire il suo nome, cioè che il suo nome non venga reso noto, ma con una motivazione che secondo me è bellissima, perché questo deve essere visto come una comunità che si esprime e noi ci esprimiamo come comunità, stiamo raccogliendo tantissimi consensi. Io personalmente ho convinto quasi tutti i miei vicini di casa che all'inizio non avevano capito bene, perché qui il problema, come al solito, è la conoscenza. Quando tu conosci un problema lo puoi affrontare. Noi abbiamo degli hater sui social che sono mostruosi perché dimostrano di non sapere di che cosa parlano. Noi lo sappiamo perché nel nostro comitato ci sono esperti, ci sono studiosi, ci sono docenti del Politecnico, ci sono geologi, cioè noi parliamo di cose che conosciamo. Come fare però a scongiurare l'effetto NIMBI? Voi sembrate quelli del no, tutti dicono ecco, ecco, è nato l'ennesimo, è nato del no, noi NIMBI not in my backyard, non nel mio giardino. Sì, sì, so questa cosa, ma in realtà noi il nostro giardino lo stiamo coltivando da tanto tempo, perché noi stiamo lavorando da anni, perché Chiaravalle è il suo territorio, che, ripeto, è un territorio unico per il patrimonio storico, sono mille e rotti anni di lavoro sul territorio fatto dai monaci, sono una costruzione di un sistema di abbazie e di un sistema di cascine collegate alle abbazie, le cosiddette grange, e noi da anni ci stiamo battendo perché questo territorio diventi, penso un po', patrimonio culturale dell'UNESCO, dell'umanità. Quindi noi stiamo lavorando da tanto, aspettiamo le cicogne, aspettiamo che questo si inserisca pienamente in un percorso che si chiama Cammino dei Monaci, stiamo lavorando nella Valle dei Monaci, questa deve essere una zona per cui Milano diventa orgogliosa di avere un patrimonio storico dell'UNESCO, non monumentale, ce l'ha già, perché è il Cenacolo, ma storico paesaggistico, non ce l'ha nessuno, e noi vorremmo che Milano ce l'avesse, vorremmo che il nostro sindaco si impegnasse in questa direzione. E infatti, fin adesso abbiamo fatto appelli al sindaco di San Donato, alla giunta di San Donato, però anche qui c'è un altro tema, cioè cosa dice la giunta di Milano, il municipio, cosa dicono i consiglieri, insomma, avrete sicuramente parlato con la presenza politica milanese. Sì, io sono intervenuto molto recentemente, c'è stato un consiglio comunale congiunto con il municipio 5, ho fatto un intervento proprio, chiedendo un impegno preciso. Non ci basta che il sindaco dica che lo stadio a San Donato è difficile da realizzare. Noi vogliamo che il sindaco, il consiglio comunale e le forze politiche di Milano, e lo stanno facendo, dicano che non si deve fare lo stadio a Chiaravalle. Ah, infatti, perché è quello il problema, nel senso loro dicono, perché poi immagino che non possiamo dire niente, il problema è a San Donato, però ricordiamo una cosa, che il sindaco Sala è anche il sindaco della città metropolitana. E' certo, che è uno degli attori coinvolti in questo accordo di programma che viene sempre invocato. L'altro è il Parco Sud. Il Parco Sud, si è già espresso, ha detto che non approva nessun tipo di intervento nel Parco Sud, tantomeno i famosi parcheggi a raso che sono una presenza. Anche qui c'è poi un piccolo cavillo nel senso che lo stadio non sarebbe sul territorio del Parco Sud, ma diciamo che poi i furgoncini dei panini posteggerebbero invece sul Parco Agricolo più o meno, nel senso che il confine è quello. migliaia, migliaia, migliaia di macchine che sarebbero dappertutto. Attualmente questo spazio non c'è e quindi sembrerebbe anche della notizia che abbiamo letto questa mattina di questi nuovi acquisti che potrebbero essere fatti proprio per fare questi posteggi. Ma, come dicevi, il Parco Agricolo di Milano si è già esposto. Assolutamente. All'unanimità ha votato contro. Quindi è una bella cosa. Se tutti gli attori cominciassero a dire che sono contrari stopperemmo subito. Non faremmo perdere tempo ai cittadini di Chiaravalle. Non faremmo spendere soldi. Il Comune di San Donato ha già speso decine di migliaia di euro per questo progetto. Perché? E mentre chiedete ai cittadini di San Donato quanto sono contenti dell'amministrazione in termini di vita quotidiana dei cittadini. Questo è un suggerimento allora anche per la nostra produzione che abbiamo capito. Il prossimo è Comitato San Donato. Il Comitato di San Donato deve venire qua a dire anche la sua. Perché comunque questa storia è veramente interessante per come appunto si sta facendo grande eco non solo nel Comune di San Donato ma anche quindi poi in Milano. Perché ormai è ovvio che quando io faccio una cosa anche se solo vicino vado poi a impattare anche su un altro comune. Sì, assolutamente. Poi ripeto questa è una zona strategica. l'Europa ci ha tirato le orecchie qualche giorno fa è una delle zone più inquinate d'Europa. Cosa vogliamo fare? Ancora costruire? Ancora portare traffico? Ancora distruggere verde? È una follia. Ma forse poi diciamo anche una cosa magari uno è andato anche a vivere a Caravalle sperando e cercando qualcosa. fondamentale questo è fondamentale facendo il mio esempio io vivevo in centro Milano ho due bambine molto piccole abbiamo deciso con mia moglie di andare a vivere in una zona in cui i bambini crescessero in mezzo al verde e non nel disastro cittadino. Io ho fatto questa scelta e come me l'hanno fatta tutti quelli che sono venuti a vivere a Caravalle in questi decenni che si sentono veramente impotenti e chiedono di essere difesi da chi deve difenderli cioè il sindaco di Milano prima di tutto. Eh infatti perché io porto sempre questo esempio noi ad esempio con i nostri studi siamo vicinissimi allo stadio stadio che però c'è qui dal 1920 quindi ormai sappiamo che è qui e quindi io un po' ogni tanto con i comitati ci vanno un po' a litigare dicendo ma ragazzi ma di cosa volete lamentarvi lo sapevate che se venivate qua a vivere c'era lo stadio c'è il traffico poi si può migliorare sempre tutto ma è così cioè lo sapevate e c'eravate in un'altra zona qui è diverso invece io ho scelto quella zona perché c'aveva delle caratteristiche mi hanno promesso che quelle caratteristiche sarebbero anzi migliorate e invece mi ritrovo difatti noi siamo solidali con i comitati di San Siro ma i comitati di San Siro chiedono una ristrutturazione se sono opposte all'abbattimento e se sono opposte soprattutto a nuove costruzioni nell'area della Maura noi li appoggiamo sono nostri amici ci vediamo spessissimo e abbiamo in comune proprio questo tipo di battaglia eh sì perché poi quella cosa lì delle nuove costruzioni che ogni volta tutte le giunte quasi tutte ormai promettono appunto il consumo zero e poi invece si arriva a il grattacielo il palazzetto tra parentesi in un'area quella lì del sud Milano che comunque insomma ci sarà la porta romana con lo scalo romana e il palazzetto nuovo a Santa Giulia insomma non sarà semplicissima di gestione ma vedremo anche appunto cosa succederà i tempi loro cosa dicono non ci sono ancora tempi per il momento hanno già raccontato cose se leggete i siti del Milan parlano della prima partita nella stagione 28-29 credo che siano tempi assolutamente impensabili e comunque per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda faremo tutto il possibile perché primo non si decida di fare ma secondo faremo rallentare in tutti i modi legali possibili lo prometto questa non è una minaccia ma una promessa che è diversa una promessa molto serena molto tranquilla che è diverso ci sono io cerco di non perdere la pazienza ma vi assicuro non deve essere facile no non è facile soprattutto perché io sono un ex insegnante a me piace ragionare parlare con le persone che comprendono tutte le volte che mi sono confrontato con gli amministratori di San Donato le pochissime volte l'abbiamo imposto noi perché c'è un deficit di democrazia San Donato i cittadini non sono ancora mai stati coinvolti e tutte le volte mi trovo di fronte all'impossibilità di discutere perché tu puoi discutere con le persone che sanno di che cosa parlano e questo è drammatico e insomma sappiamo come i cittadini dovrebbero sempre invece avere la prima parola ascoltiamoli poi si può trovare la riragionare si può trovare la mediazione ma ascoltiamoli prima anche perché poi sono quelli che vanno a mettere la crocetta sulla vostra scheda elettorale e cari miei politici è vero che siamo sempre di meno andare a mettere quella crocetta forse su questo però siamo sempre di più a far parte di comitati che difendono il territorio io da laico sono contento di lavorare insieme ai monaci ecco questa cosa che comunque Minan questa cosa che avete fatto incazzare i monaci veramente no ti dico di più domenica mattina saremo tutti insieme davanti all'abbazia di Chiaravalle a diffondere sia il manifesto dei monaci sia quello delle associazioni perché abbiamo un comune sentire assoluto allora veramente avete fatto veramente uno spettacolo siete riusciti a fare siete riusciti a fare uno spettacolo Minan andiamo con Manini spettacolare Camilla Cabello Bam Bam insieme a Ed Sheeran 8 e 34 minuti ultimi minuti della nostra trasmissione ma siamo ancora qui con Fabio Songa dell'associazione Borgo di Chiaravalle che gli sta spiegando appunto il perché è una questa delle associazioni che dice no allo stadio a San Donato per fortuna uno delle tante posso permettermi di dire una cosa un po' privata io sono milanista ecco ma sono un tifoso sembra una banalità ma in realtà è importante dire questa cosa perché spesso l'abbiamo visto qua a San Siro ma immagino che succeda anche lì gli schieramenti poi sono quelli già siamo Milano Inter in qualsiasi cosa allora guarda siccome io sono uscito in un po' sia in radio una mia amica mi ha scritto mi ha detto cavolo hai ragione bravi però chissà quanti insulti prende io ho detto guarda mi scivolano addosso tranne quello che sono o Interista o Juventino ecco io sono milanista orgoglioso ho visto giocare Rivera tifoso ho visto sono andato allo stadio tantissimo ho visto giocare ho la fortuna sfortuna vuol dire che sono vecchio di aver visto giocare Rivera l'ho detto insomma forse allora è anche doppia la rabbia infatti la diluzione la rabbia volevo dirti una cosa su questo io proprio approfitterei del microfono per dire che io spero che all'interno del mondo Milan si crei un grande rispetto nei confronti di Chiaravalle ci si renda conto che San Siro è la scala del calcio lo è sempre stato si può ristrutturare si deve ristrutturare Chiaravalle è Chiaravalle deve rimanere Chiaravalle e mi piacerebbe che tifosi giocatori ex giocatori uomini di spettacolo dicessero questa cosa semplice che diciamo noi non stadio a Chiaravalle sia alle Cicogne sia alla ristrutturazione di San Siro abbiamo uno stadio bellissimo lo possiamo risistemare perfetto dov'è il problema? infatti sembrava che non ci sia un problema invece siamo qua a parlarne voi da settembre avete iniziato la vostra mobilitazione il comitato di San Donato ha cominciato prima in luglio noi abbiamo preso i contatti a luglio la prima grande assemblea che abbiamo fatto a Chiaravalle veramente grande mi sono stupito della quantità di cittadini che sono venuti è stata il 26 settembre da allora ne abbiamo fatte tre da allora devo dirti orgogliosamente che siccome io sono un felice pensionato sto spesso al bar della bellissima bakery di Chiaravalle dove si beve uno dei caffè migliori si mangia uno dei pani migliori di Milano mi fermano i cittadini che non conoscevo e mi dicono ma hai convinto ci avete convinto anzi ci avete convinto non vorrei mai sovrapporre la mia persona a una battaglia che coinvolge centinaia di persone decine di associazioni e volevo dire un'altra cosa è stata un'esperienza difficile ma bellissima perché ho conosciuto tante persone di San Donato di Poasco di Chiaravalle che non conoscevo abbiamo costruito una rete usiamo il nostro tempo libero i nostri soldi tutto quello che facciamo è assolutamente a carico nostro però siamo affratellati da un obiettivo comune che non è il nollo stadio è il sì alle cicogne è il sì alla valorizzazione del territorio tra i firmatari c'è Nocetum Nocetum sta da anni seguendo con una apposita commissione della regione sta studiando i percorsi per la valle dei monaci dentro questo territorio e alla mia domanda Gloria Mari che è una delle fondatrici di Nocetum ha detto ma abbiamo preso in considerazione anche passare dentro l'area di San Francesco perché lì c'è una grangia cioè una cascina del circuito del cascina della Bazzia di Chiaravalle purtroppo in condizioni di totale abbandono ma se voi andate a Nocetum fuori c'è un bellissimo cartello che illustra il concetto di valle dei monaci e voi provate a disegnarci in mezzo uno stadio e capirete poi fate il giochino qual è l'elemento che non c'entra chi è l'intruso ecco i monaci ve lo stanno già dicendo infatti ricordiamoci un po' le prossime tappe della vostra battaglia ma guarda domenica noi ci troviamo tutti insieme cioè chi ha firmato le associazioni che hanno firmato il cartello e il volantino uno stadio a Chiaravalle e quello che hanno le associazioni del mondo cattolico e dei monaci che hanno firmato il manifesto uno stadio accanto alla Abbazia che è una domanda retorica perché la risposta è no e ci troviamo insieme volantineremo cercheremo di parlare perché più si parla più si portano argomenti più la gente si convince poi il 7 aprile avremo all'Arci il circolo Arci Pessina di Chiaravalle un'iniziativa in cui verrà presentato il libro di Facchetti quindi il figlio di un grande giocatore dell'Inter e interverrà il comitato proprio contro lo stadio e probabilmente 9 è una data da verificare ancora a Chiaravalle presenteremo la proposta di ristrutturazione di San Siro proprio perché noi non siamo solo per i no ma diciamo dei bellissimi sì sia alla ristrutturazione di San Siro sia alle Cicogne sia alla Valle dei Monaci sia al fatto che Chiaravalle sia il rifugio anche spirituale per i cittadini di Milano per i milanesi beh perché no lo è stato per anni per centinaia centinaia di anni perché no non poterlo ancora oggi dove forse anzi abbiamo bisogno di più spiritualità ora che prima mi sembra dire quindi insomma a prescindere dal Dio in cui pregare forse un po' di spiritualità l'abbiamo bisogno un po' tutti quanti o anche senza nessun Dio perché quello è un luogo dello spirito io appunto ripeto sono laico agnostico ma tutte le volte che entro in abbazia o che giro per i chiostri mi sento parte di un tutto è veramente un luogo pazzesco che vi invito se non l'avete ancora conosciuto perché vabbè ogni tanto i miei milanesi poi sono un po' duri li comprendo ogni volta quindi tiro le orecchie ai miei chiarissimi milanesi che sono in collegamento dentro l'abbazia di Chiaravalle opera una struttura una cooperativa che si chiama Coine che fa delle visite guidate bellissime non solo dentro l'abbazia ma consiglio i milanesi a vedere il mulino di Chiaravalle che è meraviglioso un posto stupendo fuori dal tempo tu in pochi minuti passi da Corvetto e dalla città trafficata in un luogo eterno e poi io dico sempre questo perché facciamo in modo che appunto la città trafficata vada a contaminare Chiaravalle non possiamo per una volta fare in modo che sia Chiaravalle contaminare la città trafficata proviamoci almeno una volta proviamoci vediamo quello che può essere magari scopriamo che riusciamo a far diventare delle osi di bellezza e di serenità anche zone che adesso ahimè ci sembrano impensabili Fabio grazie mille davvero di essere qui con noi oggi grazie a voi sono molto contento saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato tienici aggiornati su tutti i svolgimenti e aggiornamenti del comitato e della storia su questo stadio e senti in bocca al lupo e in bocca al lupo anche voi per il vostro lavoro dai grazie mille grazie mille ancora Fabio Song associazione Borgo di Chiaravalle cercateli sui social su internet su google c'è questo video poi che metteremo anche sui nostri sui nostri siti per farvi vedere questo bellissimo video che racconta un po' un minuto giusto Fabio un minutino anzi ci tengo a dire se posso che questo video l'ha fatto un filmmaker un mio vicino di casa che ci tiene al fatto di non dire chi è non per modestia ma perché vuole che questo video sia l'espressione di una collettività ed è un messaggio bellissimo già vi fa capire appunto quanto è importante questa battaglia grazie mille Fabio andiamo avanti con un po' di musica poi torniamo qui per gli ultimi minuti in trasmissione con i saluti adesso è il momento di Tektronik con Pop Up The Jam